Il Rotaract ha organizzato una bellissima iniziativa qui oggi a Lama, sentiero strada dei poeti e degli artisti, zona per intenderci Cancello Rosso, via Mughetto, una iniziativa che ha visto coinvolte varie associazioni in collaborazione con Chima Ambiente Amio, una giornata di lavoro, di raccolta di tutti quei rifiuti che purtroppo tanti incivili hanno depositato, hanno abbandonato in maniera davvero scriteriata e mi fermo qui. Ho al mio fianco una delle rappresentanti, la prossima Presidente in coming, come si suol dire, del Rotaract, Pisconti, il nome mi sfugge, Filomena Pisconti. Beh, amare Taranto vuol dire anche dimostrarlo con i fatti. Per noi oggi è una giornata dai mille significati, perché tra l'altro per noi significa oggi tornare in presenza, fare un'attività in presenza dopo tanti mesi in cui siamo stati costretti per via delle varie restrizioni, a dover fare service e quindi fare del bene di fronte ad uno schermo, tramite uno schermo. Quindi già la giornata oggi ha questo significato importante per noi. E poi sicuramente sì, noi abbiamo amato Taranto, abbiamo amato le sue bellezze, le sue bellezze che anche noi viviamo e che dobbiamo custodire, dobbiamo proteggere assolutamente. Ora che la situazione sembra essersi quasi normalizzata, almeno va verso quella via, siamo sempre più pronti e disponibili, più carichi anzi dopo tutti questi mesi di chiusura a continuare i nostri percorsi di service e quindi di fare del bene a noi al prossimo. Anche perché Taranto, come tutti sapete, vive il dramma ambientale, i guasti, le stragi compiuti dall'Ilva e dall'Exilva. Però amare l'ambiente, rispettare l'ambiente, vuol dire anche non buttare il rifiuto nel mare. Può sembrare una piccola cosa, ma invece è una grande cosa evitare certi gesti. È tutto un problema di mentalità. L'ambiente siamo noi. Siamo noi. Se noi proteggiamo l'ambiente, proteggiamo noi stessi. È tutto un problema di mentalità e noi su quella che dobbiamo lavorare, cioè l'educazione al rispetto dell'ambiente e quindi di noi stessi. Grazie. Grazie a tutti.